I consigli dove hai imparato a fare un finale così travolgente? Eh, allora ho imparato in televisione, ovviamente, dove si fanno tante belle figuracce. Che però sembrano preparate, ma non lo sono mai. Ricordate quando, va bene. Allora, è meglio non ripararsi. E' un pezzo di Dario Cifo e Agostino che suone l'ombroso. Un applauso. E io per la stessa notte sono impadeggio con la complicità del mio collega Andy. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.